Ci troviamo a Sorrento, teatro Sant'Antonino, la compagnia L'Airone, diretta dalla regista Anna De Martino. Ecco tutti i miei attori. Parlaci un minuto della tua compagnia, dello spettacolo che fai stasera. La nostra compagnia è da 25 anni che facciamo questi spettacoli natalizi e ogni anno ci mentiamo sempre in commedie diverse. Abbiamo un buon seguito di pubblico e ogni anno ci sono. Ci siamo visti che la plateia è piena in tutti i giorni di posti a sedere. Perfetto, ci fa piacere questa cosa. Abbiamo anche difficoltà di ospitare altri spettatori. Sì. Io mi allontano. Questa è la compagnia. Faccio ancora le foto. State ancora in tempo per venirla a vedere perché inizierà fra pochi minuti. 19 e 30. Alla 19 e 30. Siamo in diretta. Dal Teatro Sant'Antonino della Cattedrale di Sorrento per Mediaset Communication. Chiudiamo per il momento e vi invitiamo tutti al teatro a vedere questo meraviglioso spettacolo. Tre pecore viziose. Ripeti. Tre pecore viziose di Edoardo Scarpetta. Ok, grazie.